A Canicati un uomo di 74 anni ha subito uno scippo. L'anziano era uscito di sera intorno alle 19 per alcune commissioni. Stava percorrendo via Veneto, una strada vicino alla villa comunale, in pieno centro e mentre parlava al cellulare è stato avvicinato da due giovani che dall'aspetto non dimostravano avere più di 20 anni. I due gli avrebbero letteralmente rubato dalle mani lo smartphone e si sarebbero dati alla fuga. L'anziano, pensionato che non ha subito danni fisici, pur provato psicologicamente, ha subito denunciato il fatto al commissariato della polizia di stato locale. Gli agenti hanno poi avviato le indagini per risalire ai due malfattori, ad oggi ignoti.